Proprietà utili. Frate i tipi di argilla, e sono più di 10. Quella più utile è considerata l'argilla blu. La sua patria è la penisola di Crimea, tra la sua età circa mezzo milione di anni. L'argilla di alta qualità viene estrada a 40 metri di profondità. Il suo colore blu-grigio è dovuto ad alto contenuto di silice. Nel complesso l'argilla blu contiene alcune decine di minerali e microelementi che rendono le maschere per capelli in cui è contenuta. Un rimedio curativo molto efficace, silicio, favorisce il rimarginarsi di piccole ferite e microfessure del cuoio capelluto, è necessario per rendere capelli e unghie forti, calcio controlla i processi metabolici, migliora la nutrizione cellulare, e alluminio. È molto utile in caso di cuoio capelluto grasso perché riduce l'attività delle ghiandole sebacee e restringe i pori l'afferro, garantisce afflusso supplementare di ossigeno e follicoli piliferi, zinco, se ha leggermente la cute grassa, ha un effetto antinfiammatorio. Rafforza la capigliatura, azoto, tonifica i capillari più piccoli e rafforza le pareti vasali, intensifica la circolazione sanguinea. Nichel controlla il funzionamento delle ghiandole sebacee, molibdeno, accelera il processo di rigenerazione delle cellule e dei tessuti, argento, ha evidenti effetti antibatterici e anticrittogamici. Chi odio, normalizza il funzionamento della ghiandola tiroidea, che regola il metabolismo e ha un effetto di reo sullo stato di salute della capigliatura. In più, le piccole particelle di argilla hanno un ottimo potere assorbente. Funzionano come un piligmo orbido purificando il cuoio capelluto ed i capelli dall'eccesso di sebo, sudore, tossine e cellule corneificate di epidermide. Ecco le proprietà utili dell'argilla per capelli ed i motivi per cui deve diventare parte integrante della cura dei vostri capelli. A chi è adatto, l'argilla blu è molto efficace sui capelli grassi. Già dopo un paio di settimane di uso regolare rallenta la secrezione eccessiva del sebo e non c'è più bisogno di lavare la capigliatura ogni giorno. La seborrea oleosa, quando le spalle sono letteralmente coperte dai grandi fioi bianchi già dopo un paio d'ore dal lavaggio, passa completamente dopo due a tre mesi dall'inizio della curativa con argilla blu. Tuttavia, con il suo utilizzo corretto ed una scelta curata degli ingredienti slementari l'argilla blu sarà utile per i tipi di capelli, sei che ha in grado di eliminare il prurito e la desquamazione, idratare il cuoio capelluto e pulirlo dallo strato superiore di cellule morte, favorendo l'accesso dell'ossigeno, combinata può essere applicata solo sulle radici. In tal modo l'argilla eliminerà il sebo in eccesso e socchiuderà i pori senza essiccare ulteriormente le punte, danneggiati e, è in grado di ricostituire. La struttura dei capelli perché contiene tanti microelementi benefici contro la caduta, rafforza perfettamente le radici, tivizza la circolazione sanguigna, migliora lo stato di salute della cute e allunga la vita dei capelli, ricrescita lenta, è in grado di risvegliare dei follicoli dormienti, ti accelerando la circolazione sanguigna e stimolando i processi di rigenerazione. Per i capelli normali, le maschere a base di argilla blu possono essere un buonissimo peeling o un modo per prevenire l'alopecia prematura. Modi di applicazione Le maschere per capelli rappresentano l'impiego più noto dell'argilla blu, ma non sono l'unico modo di utilizzo di questa sostanza naturale e benefica. Si possono preparare degli ottimi peeling, soluzioni benefiche per risciotto, fare avvolgimenti per rendere i capelli sottili più folti. Peeling l'argilla agisce come peeling durante qualsiasi modo d'utilizzo. Tuttavia, per l'effetto purificante si può amplificare aggiungendo nella composizione della maschera la fondi di caffè e farina d'avena. Il caffè, allo stesso tempo, migliora la circolazione sanguigna grazie alla caffeina. L'avena è utile soprattutto per i capelli indeboliti e molto secchi perché, insieme ad una purificazione delicata, crea sui capelli un film protettivo sottile che tratta te nell'umidità. Per preparare un peeling bisogna prima mescolare i componenti a secco. Aggiungete a due cucchiai di argilla un chiaio di caffè o fioi d'avena rimacinati fini. Quindi mescolate bene e diluite con acqua minerale liscia fino ad ottenere la consistenza dello yogurt. Applicate la miscela sul cuoio capelluto e sulle radici. Massaggiate per 2 a 3 minuti. Dopodiché distribuitela con un pettine rado su. Tra la lunghezza del cappello e lasciate per 5 a meno 10 minuti. Il peeling viene applicato sui capelli umidi e puliti, bisogna quindi averli precedentemente lavati bene con lo shampoo. Questo peeling invece si lava via con acqua corrente appena tiepida senza prodotti per il lavaggio. Se i capelli si sono sgrassati troppo, alla fine potete applicare il vostro balsamo nutriente preferito. Maschere Ci sono tantissime ricette di maschere per capelli a base di argilla. Per questo motivo ve ne offriamo solo alcune tra le più semplici ed efficaci, con miele e limone. Conferisce lucentezza ed extra forza ai capelli grassi e allo stesso tempo diminuendo leggermente l'attività delle ghiandole sebacee. Bisogna diluire con acqua minerale liscia 2 cucchiai di argilla fino alla consistenza dello yogurt. Aggiungere un chiaino di miele liquido e un chiaino di soup di limone. Con cannella e lae. Diluire la polvere d'argilla con lae in proporzione 1-2. Quando si ottiene una consistenza omogenea, aggiungere un chiaino di cannella macinata. Il lae idrata e nutre il cuoio capelluto mentre la cannella stimola la crescita dei capelli. All'olio, è un ottimo ricostituente per capelli dopo piega permanente, colorazione o danni prodotti da messe in piega calde. Prima bisogna diluire l'argilla con poca app, dopodiché aggiungere un olio vegetale naturale, di pesca, d'oliva, di germogli di grano, di bardana, ecc. Parentesi chiusa. Si può arricchire la maschera con 5 a 6 gocce di olio essenziale, di rosmarino, di cedro, po' di pici, acqua di mentolo, d'arancia, pa di chiodi e di garofano. Importante! Le maschere a base di argilla si possono tenere in posa per alcune oretta via non bisogna lasciarle per tala notte, lavatele via prima di coricarvi. Avvolgimenti Gli avvolgimenti si effettuano quando ad aver bisogno di cura il cuoio capelluto, tosto che i capelli. Questa procedura aiuta contro la caduta dei capelli causata da dermatite o altre malattie cutanee. L'argilla è in grado di alleviare l'infiammazione e calmare il prurito, tero, rimarginare velocemente piccole ferite e microfessure. Non bisogna esagerare con la composizione. È meglio diluire la quantità necessaria di argilla con acqua da neve sciolta o minerale e aggiungere qualche goccia di olio essenziale. Con effetto antinfiammatorio o antibatterico, pino, camomilla, calendola, celidonia, ciciliana, barbascia. Applicate uno strato denso di questa miscela sotto il cuoio capelluto o solo sulle zone lesionate. Coprite quindi la testa con un cellofane con un asciugamano pesante in spugna. Non bisogna tenere l'avvolgimento troppo a lungo. Se la testa suderà, il sudore irriterà di nuovo la cute. Basteranno 1 a 2 ore, dopodiché bisogna lavare via bene l'argilla con acqua corrente pulita appena tiepida. Additivi potete aggiungere l'argilla al vostro shampoo preferito oppure a decote per il risciacquo. Tavia, è preferibile farlo direttamente prima dell'utilizzo. Se versate l'argilla in un flacone grande sarà difficile mescolarla bene e col tempo si depositerà sul fondo. L'argilla viene aggiunta nello shampoo in proporzione 1 a 4. Per ottenere un litro di decote per risciacquo, invece, ti ne sono sufficienti due cucchiai. È inutile aggiungere l'argilla nei balsami o nelle maschere perché, a causa del suo alto potere assorbente, azzera gli effetti degli altri elementi nutritivi. Se arricchite spesso con l'argilla gli shampoo già pronti, potete evitare di realizzare le maschere a base di argilla fai da te perché? Tale cura basterà per mantenere la capigliatura in buona salute. Recensioni e controindicazioni. Secondo i pareri di coloro che ne fanno uso regolare, le proprietà benefiche dell'argilla per capelli sono evidenti e l'effetto si nota quasi subito. Nello stesso tempo viene garantita la cura complessiva dei capelli, rafforzamento, o idratazione, nutrizione, ricostituzione della capigliatura e del cuoio capelluto. I capelli diventano più forti e folti, crescono più velocemente, le punte si sdoiano di meno. Purtroppo questo rimedio miracoloso ha le sue controindicazioni. Non deve essere applicato se ci sono processi infiammatori in corso sul cuoio capelluto o nell'organismo. La pressione arteriosa è significativamente elevata, il cuoio capelluto è troppo seo o troppo danneggiato. Ci sono malattie gravi del cuore e della ghiandola tiroidea. Importante! L'utilizzo troppo frequente di argilla può causare un'eccessiva secchezza della capigliatura e del cuoio capelluto e provocare un'eccessiva attività delle ghiandole sebacee. Quindi può essere applicata non più di due a tre volte a settimana. L'argilla blu rimane tavia uno dei pochi prodotti che può essere usato dalle donne in gravidanza o durante l'allattamento ed anche dai malati oncologici. Per i capelli sani è un rimedio preventivo che deve essere applicato qualche volta al mese.